Un altro grave incidente stradale dopo quello avvenuto martedì in via Trieste costato la vita al veterinario 57enne Mauro Gavioli. Era caduto in scooter a causa di un malore, riportando ferite gravissime. Era deceduto il giorno dopo al centro di rianimazione dell'ospedale Maggiore. Questa mattina invece drammatica uscita di strada in via Spezia alle porte di Collecchio. Vittima dell'incidente avvenuto alle 8.45, un 51enne che alla guida della propria auto ha improvvisamente perduto il controllo del mezzo. Alcune paurose sbandate e poi la vettura si è schiantata contro un albero a lato della carreggiata. I primi soccorsi sono stati prestati al 51enne da alcuni automobilisti di passaggio che avevano assistito alla scena. Poi l'allarme al 118. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dalle lamiere dell'auto. Poi è toccato ai sanitari il compito di stabilizzare il ferito prima del trasporto all'ospedale Maggiore. Il 51enne è ricoverato nell'area Codici Rossi del pronto soccorso. La prognosi è riservata ma per fortuna non c'è pericolo di vita. La prognosi è riservata ma per fortuna non c'è pericolo di vita.